Musica Senza medico e senza pediatra, protesta a Calasetta, cittadini, associazioni insieme all'ospice GL si sono dati appuntamento stamattina sotto il municipio del paese costiero. Quasi l'80% del personale scolastico è vaccinato, il dato della Sardegna è stato comunicato dall'assessorato regionale della sanità alla struttura commissariale per l'emergenza Covid. Scavi clandestini nei guai due pensionati sono stati sorpresi dagli agenti del corpo forestale di Dolianova mentre sondavano il terreno con un metal detector trovati in possesso di frammenti di bronzetti. Letture di quartiere, il progetto della libreria Lilith per favorire il dialogo e la lettura tra le famiglie. Ben 400 i libri distribuiti gratuitamente a Carbonia grazie al contributo della Fondazione di Sardegna. Ben ritrovati su Canale 40 oggi giovedì 8 luglio 2021 in apertura del nostro telegiornale la protesta dei cittadini e delle associazioni di Calasetta dove manca il medico di base e il pediatra. Tra una situazione paradossale e inaccettabile hanno commentato i cittadini affiancati dalla loro sindaca Claudia Mura. C'era per noi Giampaolo Cirronis che ha raccolto alcune dichiarazioni. Vediamo. Claudia Mura, da qui a breve Calasetta in piena stagione estiva rischia di ritrovarsi senza assolutamente copertura di medico di base, senza pediatra, senza guardia medica, senza guardia medica turistica, insomma una realtà, una comunità abbandonata a se stessa. Sì, dall'anno scorso praticamente siamo via via, è sempre un continuo pensionamenti, non abbiamo il pediatra, i medici di famiglia non ci sono praticamente più, abbiamo scoperto anche che la guardia turistica non è stata attivata. Tra qualche giorno ci sarà il mondiale Open Schiff, noi abbiamo qua centinaia di persone che verranno e non possiamo garantire nessun servizio sanitario. Quindi è una situazione che ormai non può più essere sostenuta. Colliamo l'occasione, insomma, nella giornata di oggi per parlare di questo tema e per lanciare un messaggio alla regione per dire che devono intervenire subito, immediatamente. Siamo veramente disperati, abbiamo necessità di avere risposte, non possiamo più aspettare. Abbiamo fatto un'iniziativa a Cagliari che era solo un presidio e comunque è emersa la gravità della situazione sanitaria in Sardegna partendo anche dalla carenza della medicina di base e dall'assenza di una programmazione delle assunzioni di questi medici in tutto il territorio. Poi ci sono situazioni che sono, in alcuni comuni, che sono ancora più gravi e per cui la gravità del momento deve essere affrontata con la stessa, con strumenti anche di emergenza. Sì, in effetti noi siamo abbandonati, la regione ci ha abbandonato e siamo da un anno che stiamo combattendo per avere un qualcosa che, in un nostro diritto, invece non ce lo stanno dando purtroppo. Siamo preoccupati perché siamo un'isola nell'isola, siamo preoccupati perché non ci sono i servizi pubblici che ci danno la possibilità di raggiungere i centri vicini dove ci potrebbero curare e stiamo in attesa che questi signori che ci governano ci diano delle risposte concrete. Al termine del nostro telegiornale andranno in onda tutte le interviste integrali sul servizio. Si avvicina all'80% la percentuale del personale della scuola vaccinato contro il Covid-19 in Sardegna. Vediamo il servizio. In Sardegna il 78,9% del personale scolastico è stato già vaccinato contro il Covid-19. Lo ha comunicato ieri l'assessorato regionale della sanità alla struttura commissariale per l'emergenza Covid. È sottostimato il dato registrato nell'ultimo report nazionale che pone l'isola intorno al 66,7%, una discrepanza nata con la modifica del piano di vaccinazione nazionale nei mesi scorsi. Con l'accantonamento delle priorità per categorie professionali e l'apertura della campagna per fasce di età, molti insegnanti non ancora vaccinati nella precedente fase hanno infatti ricevuto la dose successivamente, registrandosi esclusivamente secondo la propria fascia di età, restando quindi fuori dal dato per categoria. La nuova fotografia scattata dalla regione ha incrociato i dati del personale scolastico forniti dal Ministero con quelli delle tessere sanitarie delle persone già vaccinate. Complessivamente sono 34.776 le persone in organico nelle scuole dell'isola, di queste 27.430 hanno già ricevuto almeno una dose. La Sardegna, ha detto il Presidente della Regione Cristian Solinas, è in linea con gli obiettivi. Vogliamo che a settembre la scuola possa riprendere in sicurezza e finalmente con la certezza e la stabilità delle lezioni in presenza. Quello scolastico è fra i sistemi che più di tutti hanno sofferto in questa pandemia, con costi sociali enormi dovuti anche all'abbandono. Continueremo a mettere in campo ogni strumento a nostra disposizione affinché il traguardo di un ritorno alla normalità per insegnanti e studenti diventi una realtà concreta. Nell'isola, ha aggiunto l'assessore Mario Nieddu, nella prima fase della campagna rivolta al personale scolastico abbiamo scontato la forte diffidenza verso il vaccino AstraZeneca che ha comportato un inevitabile rallentamento. Siamo stati in grado di recuperare, ma occorre ancora uno sforzo. Indubbiamente il taglio delle consegne di questo mese non aiuta. Il nostro sistema continua ad avere un potenziale superiore rispetto alle scorte e lo dimostra l'accelerazione che ci ha portato al 90% di dosi somministrate su quelle ricevute. Dall'altra parte l'appello è tutto il personale scolastico non ancora vaccinato. Questa è una battaglia in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte per la propria salute e per quella degli altri. Andiamo avanti. I sindaci sono tra i pilastri del paese, le istituzioni che i cittadini riconoscono dalla loro faccia prima ancora che della loro appartenenza. Ho fatto l'esperienza di sindaco di un piccolo comune e so cosa significa essere praticamente l'unico riferimento immediato per ogni problema. Se oggi i sindaci devono andare in piazza per far sentire ragioni di immediato buonsenso, vuol dire che qualcosa non funziona nel rapporto tra le amministrazioni locali ed il legislatore nazionale. Se avessi potuto sarei stata tra loro a dire che bisogna riprendere un dialogo costruttivo e senza pregiudizi tra istituzioni. E' il messaggio della Presidente della Commissione Lavoro della Camera Romina Mura del PD per due mandati sindaco del comune di Sadali alla manifestazione di ieri a Roma dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Diamo lo sguardo al consueto aggiornamento sui dati Covid. Sono 25 nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 2.664 test eseguiti con una percentuale dello 0,94%. Non si registrano nuovi decessi. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 33 pazienti in area medica, meno uno rispetto all'ultimo bollettino e uno in terapia intensiva. attualmente in Sardegna sono 2.292 le persone in isolamento domiciliare. Ausi Iglesias e Soltreco, gruppo Solmar S.P.A., nuovo partner del consorzio Ausi di Iglesias, hanno presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi nell'aula magna del Palazzo Bella Vista a Monteponi un progetto per la bonifica del deposito dei fanghi rossi. Giampaolo Cerronis. L'Ausi Iglesias e la Soltreco, una società del gruppo Solmar, nuovo partner del consorzio Ausi di Iglesias, hanno presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nell'aula magna del Palazzo Bella Vista a Monteponi un progetto per la bonifica del deposito dei fanghi rossi. Sono intervenuti il sindaco di Iglesias e presidente del consorzio Ausi Mauro Usai, l'amministratore delegato di Solmar Luigi Manzi, il coordinatore del progetto Soltreco Carlo Lolliri, il coordinatore scientifico Ausi Università di Cagliari Carla Cannas. Le tematiche affrontate durante la conferenza stampa hanno riguardato il deposito dei fanghi rossi di Monteponi, 1,7 milioni di tonnellate, l'impianto di trattamento, il collocamento dei prodotti ottenuti con l'inertizzazione. Esclusa la via metallurgica per fabbisogno energetico difficilmente conciliabile con il fotovoltaico, impatto ambientale rilevante oltre che per la difficile collocazione dei prodotti derivanti dalla scadente qualità della ghisa, questo percorso inizia fin da oggi all'interno dei nostri laboratori di Monteponi, dove già lavorano i ricercatori dell'Università di Cagliari, ha detto Maurusai. Siamo consapevoli che i tempi non saranno brevi, ma abbiamo tutte le carte in regola per avviare un processo di ricerca e di innovazione che permetterà finalmente la riqualificazione dell'intero territorio, anche se, ha concluso Maurusai, non mancano gli ostacoli, soprattutto burocratici, per esempio il vincolo paesaggistico sui fanghi rossi. Un processo che non produce reflui o emissioni e dunque non produce altre discariche. I tre step rientrano nella tipologia green, in linea con le direttive europee in materia di utilizzo integrale di prodotti derivanti dai cicli produttivi, come previsto da Recovery Plan, recentemente approvato dalla Comunità Europea. Il problema fanghi rossi deve diventare una risorsa, ha spiegato durante la conferenza stampa l'amministratore delegato del gruppo Solmar, Luigi Manzi. Questa partnership con l'Ausi fa parte della nostra filosofia. Siamo venuti a Iglesias nell'ottica di attuare un percorso in perfetta e totale sinergia con gli enti e le risorse professionali che entreranno a far parte di questo progetto di bonifica, per il quale è previsto uno studio epidemiologico che ci consentirà di lavorare in assoluta sicurezza. Nell'ex miniera di Monteponi c'è tutto, intelligenze e mezzi, e le risorse umane da impiegare saranno numerose, da ingegneri, architetti, alla mano d'opera qualificata. Ma soprattutto, ha concluso Luigi Manzi, nutriamo la speranza che questo progetto possa essere una chance di sviluppo e un'importante occasione di formazione per i giovani del territorio. Alla conferenza stampa è inoltre intervenuto anche l'amministratore delegato soltreco Carlo Lolliri, ex amministratore delegato di Portovesme SRL, che ha ricordato uno dei tanti progetti di bonifica realizzato nel 2007 rimasto nei cassetti per motivi politici e burocratici, auspicando che questo appena presentato possa andare avanti, con l'appoggio e la collaborazione di tutti, politica in primis, nell'ottica di avviare quanto prima un processo di bonifica del territorio atteso da oltre vent'anni. Passiamo ora alla cronaca. Sono finiti nei guai LS, pensionato 69enne di Soleiminis e RC, pensionato 74enne di Dolianova sorpresi dal nucleo investigativo del corpo forestale della stazione forestale di Dolianova, mentre sondavano il terreno con un potente metal detector e praticavano piccoli scavi. Sono state trovate in possesso di frammenti di bronzetti delle dimensioni di alcuni centimetri, nonché di lamine in piombo. Tesaurus, questo è il nome dell'operazione, ha portato al recupero di oltre mille reperti di varie epoche, dal Neolitico all'Alto Medievale, tra i quali due navicelle nuragiche in bronzo. Ai due sono stati contestati i reati di scavo archeologico clandestino, impossessamento e detenzione illegale di reperti archeologici, ricettazione e riciclaggio. I carabinieri di Nugis hanno denunciato a piede libero un 48enne del luogo incensurato, disoccupato, indiziato dal reato di guida in stato di ebrezza alcolica. L'uomo era stato controllato nel pomeriggio in via Pugusa, mentre si trovava a bordo della propria utilitaria, a causa dell'andamento platealmente zigzagante, pericoloso delle proprie traiettorie di guida. Immediatamente sottoposto ad accertamento etilometrico, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,73 grammi al litro alla prima prova e di 2,59 grammi al litro alla seconda prova, oltre cinque volte il massimo consentito. I carabinieri hanno dunque proceduto al ritiro della patente per la successiva trasmissione alla prefettura di Cagliari e dal sequestro del mezzo. Squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco sono intervenute intorno alle 23 di ieri sera in via Tasso a Cagliari per un incendio che si è sviluppato all'interno di un locale adibito al ristorante e pizzeria. In fiamme un bancone da lavoro, alcuni arredi, attrezzature, cartoni e materiali. Sul posto hanno operato una squadra di pronto intervento con il supporto di un'autobotte e un'autoscala. I Vigili del Fuoco, all'arrivo sul posto, hanno aperto la serranda d'ingresso e si sono addentrati nel locale invaso dal fumo. Individuato il rogo, hanno spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza della struttura. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo. Sul posto anche una volante e gli agenti del reparto scientifica della Polizia di Stato per ulteriori accertamenti e indagini sull'accaduto. Bentornati in studio. Letture di quartiere è il progetto ideato dalla libreria Lilit con la collaborazione di Libri Amuci e del Comitato di quartiere Carbonia Nord, con il quale si propone un'esperienza di lettura che favorisca un dialogo sia all'interno che all'esterno delle famiglie. Un progetto che prevede la distribuzione gratuita di ben 400 libri resa possibile dal contributo della Fondazione di Sardegna. Per saperne di più abbiamo intervistato Anna Lai, rappresentante della libreria Lilit. Vediamo insieme. Letture di quartiere. Anna Lai, siete da qualche tempo in questa nuova realtà in città e vi state, diciamo, integrando. Questo progetto di invito alla lettura per i giovani rientra proprio in questa idea, questa idea, quella di coinvolgere i giovani nella lettura, perché troppo spesso presi da altri problemi, da altri impegni e non solo i giovani, un po' tutti siamo lontani dai libri. È un progetto che non è rivolto soltanto ai giovani, è un progetto, l'abbiamo pensato, un progetto rivolto alle famiglie, perché speriamo che attraverso questo progetto, attraverso questa lettura comune, che è di questi due libri, Piccioccus e Piccioccas, che parlano di giovani del passato, e attraverso questi due libri i giovani di oggi e i giovani di ieri possano incontrarsi, cioè i genitori e i figli e eventualmente anche i nonni. Inoltre, la lettura dello stesso libro distribuita, abbiamo, distribuiremo 200 libri, stiamo già distribuendo 200 copie di ciascuno di questi libri. Quindi in 200 famiglie entrerà questo libro che verrà letto contemporaneamente, più o meno. Un impegno estivo, insomma, no? Esatto, i compiti per le vacanze, magari. Allora, verranno letti contemporaneamente. Quindi questa lettura comune vorremmo, pensiamo, e l'abbiamo pensata, proprio per creare anche, sia all'interno delle famiglie, sia all'esterno delle famiglie, un momento comune su qualcosa che non si pensava di fare, in questo caso, ma proprio sulla lettura. Un momento comune che crei comunità. Ecco, creare un elemento di comunità all'interno di questo quartiere attraverso la lettura e attraverso la lettura di vicende che ricordano ai giovani che possono essere lette e possono essere vissute, pensate come vissute, dai giovani e pensate come vissute anche dagli anziani. E poi, un'altra cosa, probabilmente, questa poi è la finalità generale della diffusione della lettura. Sperando che attraverso questi libri qualcuno pensi che quel libro è stato scritto per lui. Perché? Perché racconta vicende sue, quindi si ritrovi dentro il libro. oppure che quelle cose che sono raccontate le ha vissute anche lui e sono raccontate come lui o lei le avrebbe raccontate. E questo è un modo per sentirsi i protagonisti nella lettura e per sentire che un libro può essere scritto anche per me, anche se chi l'ha scritto non mi conosceva. Ecco, un progetto che coinvolge proprio la comunità, perché non c'è solo la libreria Lilith impegnata. Sì, c'è la libreria Lilith impegnata, c'è l'associazione culturale Libriamoci con cui lavoriamo e con cui abbiamo lavorato ormai da 10-15 anni facendo progetti simili a questo nelle scuole e questa volta c'è un'altra istituzione, chiamiamola così, che è il comitato di quartiere che in questo momento ci sta dando una mano a distribuirle che è importantissimo perché loro conoscono gli abitanti più di quanto li conosciamo noi, conoscono le persone e quindi sanno anche come distribuirli e come accompagnare questa distribuzione che viene fatta insieme alla distribuzione che viene fatta insieme a questo volantino che spiega un po' quali sono le nostre intenzioni di questo progetto. Torna ai confini tra Sardegna e Gets. Dal 27 agosto al 7 settembre la 36esima edizione del celebre festival si presenterà con una sfilza di concerti preceduti dalle anteprime per un viaggio ancora una volta ricco di emozioni e miti. Una delle manifestazioni più attese del Gets sotto la guida dell'associazione Punta Giara tornerà nei luoghi storici che da diversi anni caratterizzano le produzioni della rassegna sulcitana. Ai piedi delle nuraghe della piazza omonima di Sant'Anna Resi e di molte altre suggestive località del sud Sardegna che faranno da palco anche per le anteprime della manifestazione che in questo 2021 sarà dedicata all'indimenticabile Basilio Sulis. Tutti i dettagli della rassegna verranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma per domani. Siamo in chiusura sono aperte le iscrizioni ai nuovi allievi per l'anno scolastico 2021-2022 della Scuola Civica di Musica di Cagliari. L'offerta formativa si arricchisce ulteriormente di nuovi corsi individuali integrando le attuali discipline con l'insegnamento di strumenti come il bandoneon, canto polivocale sardo, oboe, corno, fagotto, viola e flauto dolce. Oltre che di nuovi corsi complementari tra i quali quello di musical, canto corale per adulti e voci bianche e big band jazz. Il numero di posti disponibili per i corsi individuali è di 120 studenti, 118 per i corsi collettivi e di ben 151 per i corsi complementari. Nel prossimo anno scolastico dunque la Scuola Civica di Musica di Caglia riaprirà le porte a circa 900 allievi fra vecchi e nuovi iscritti. Le domande dovranno pervenire interrogabilmente entro il 29 luglio 2021. Quelle pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Ed è tutto, si ferma qui il nostro telegiornale odierno. Vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e con il nostro telegiornale in lingua sarda Noasa in corso. Grazie per essere stati con noi e per l'attenzione. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21 con il programma A Tutto Campo curato da Giancarlo Cancedda. Di nuovo grazie, arrivederci. A presto.